ciao ragazzi benvenuti sul canale di origina oggi andiamo a vedere sfida la prima sfida che andiamo a vedere è impallare sotto il lampione la prima sarà a crocevia ecco qua ragazzi, ecco qua ragazzi questo è il primo lampione si trova vicino a crocevia, voi state attenti si trova in questo punto qua, nella mappa, vicino alla fabbrica di crocevia ragazzi eccoci qua, siamo al parco pacifico per cui il secondo lampione è sul parco pacifico danza sotto di luce, eccole qua eccolo qua ragazzi, il terzo lampione lo trovate qui è vicino al posto principale ragazzi ecco qua il quarto si trova a boschetto vicino alla pescheria palo della luce stiamo a campo dal calcio campo dal calcio ci facciamo a boschetto ragazzi eccoci qua, corso commercio sesto palo della luce stiamo qui ragazzi ecco qua l'ultimo parcheggio di passatempo e poi muoio dinos allone pass BY ci